I Fritz Repeater di AVM ampliano la portata della rete wireless in modo semplice e rapido e in un batter d'occhio allargano la rete locale grazie alla Wi-Fi Mesh. I Repeater coprono via radio la distanza fino al router, quindi fino al Fritzbox, senza richiedere i cavi precedentemente necessari. Se i cavi sono già posati, i Repeater 1200, 2400 e 3000 possono essere collegati alla router anche via cavo LAN o tramite adattatore Powerline. Grazie al Fritz OS si ricevono in modo automatico e gratuitamente funzioni nuove e aggiornate. I modelli 3000, 2400 e 1200 dei Fritz Repeater supportano le gamme di frequenza a 5 GHz e 2,4 GHz. Offrono inoltre il cosiddetto crossband repeating per una comunicazione senza problemi nella rete locale. Nonché il collegamento per una o anche due connessioni LAN a gigabit. Il modello più piccolo, il Fritz Repeater 600, trasmette sulla banda da 2,4 GHz. Piccolo, ma fantastico. Infatti, con una lunghezza di soli 6 cm, è più compatto della maggior parte delle prese a parete. Tutti i Repeater possono essere integrati nella rete via VPS in modo molto semplice. Basta premere un pulsante e sono compatibili anche con router di altri produttori. Collega il Fritz Repeater in una presa vicino al Fritzbox e attendi che il LED lampeggi lentamente di luce verde. Ora il Repeater è pronto a creare una connessione. Premi brevemente il tasto Connect. Entro i successivi due minuti premi il tasto Connect o VPS del Fritzbox finché il LED VLAN inizia a lampeggiare. La connessione è instaurata quando il LED sul Repeater è acceso di luce verde fissa. Ora puoi collegare il Fritz Repeater a un'altra presa più distante. La distanza ottimale è a metà tra il Fritzbox e i dispositivi per i quali si desidera ampliare la rete. Questo è tutto. Sull'interfaccia utente del Fritzbox, i nuovi Fritz Repeater collegati sono visualizzati con il simbolo Rete Mesh Attiva. I dispositivi sono sintonizzati tra loro e anche le modifiche alle impostazioni vengono rilevate automaticamente per tutti i prodotti Fritz. Grazie.